Ciao a tutti, 20 agosto 2020, siamo nella zona del Passo Gavia e nei miei viaggi a memoria oggi avevo come meta il San Matteo, eccolo qui davanti a me, ma giunto a questo punto qui il ghiacciaio diventa troppo pericoloso, non mi fido essendo anche in solitaria, bisogna sapere anche rinunciare quando si va in montagna, vedete questi seracchi, sono arrivato qui a questo punto e dovrei salire qua dove vediamo adesso, ma non mi sento sicuro, è meglio che rientro, pian piano ritornerò giù al Gavia e poi ritornerò a casa, ecco ancora una panoramica il San Matteo, il Dosegu, i Pedranzini, ecco il ghiacciaio, la mia discesa, ecco le orme che si vedono che avevo fatto e dobbiamo tornare a valle, ciao, ecco ancora la panoramica sul 3-0 e sul Pedranzini, ecco i seracchi dove rinunciamo e San Matteo sarà per la prossima volta, ciao a tutti!